Vuoi tu prendere Diane Norwood come tua legittima sposa? Tu non puoi uccidermi dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Togliti di mezzo! Fermo! FBI! Togliti di mezzo! Quando io toglierò il pollice dal pulsante, questa specie di scatoletta esploderà. Kresinski era l'uomo di cui avevamo bisogno. Un grande stronzo! Questa è una carognata, potevi rompermi il naso! Te lo sei meritato! Siamo fuori dal giro perché non riusciamo a riciclare il denaro e dovremmo spendere ciò che ci è rimasto per un'isola? Stavo in pena per te. Non costringermi a sparare! Garrett Lawton vi ha usati tutte e tre come strumenti! Abbassare la testa! Ah, voi eravate la luce alla fine del mio tunnel. Noi siamo diversi. Già. Siamo diversi.